gentili telespettatori buona giornata il bonus bollette viene ampliato anche se voi sapete che questo bonus è per pochi ma non per tutti è per chi ha dei redditi bassi o molto bassi la maggioranza degli italiani si beccano tutti gli aumenti addosso senza poter sfuggire ma a partire dal secondo trimestre per 5 milioni di famiglie italiane arriva il bonus bollette ma vediamo chi può avere questa riduzione o chiamiamola agevolazione per quanto riguarda acqua luce gas e anche le differenze con le fasce climatiche quindi parliamo di 5 milioni di famiglie avranno potranno potranno al condizionale usufruire del bonus delle bollette di luce gas gli aumenti sono assolutamente impressionanti più del 15 per cento delle famiglie non sta pagando le bollette cioè su 100 famiglie a cui arriva la bolletta di luce gas telefono 15 non stanno pagando non perché non vogliono ma perché non ce li hanno i soldi adesso arriva la tanto attesa riduzione del 10,2 per cento su prezzi di energia gas quindi parliamo di aprile maggio giugno il secondo trimestre il primo era gennaio febbraio marzo adesso aprile maggio giugno come fa sapere arera con il decreto legge 21 del 2022 arrivano le misure urgenti per contrastare gli effetti economici umanitari della crisi internazionale non possiamo prevede questo decreto che ne possano usufruire tutte le famiglie il cui reddito il cui reddito non è superiore a 12 mila euro all'anno probabilmente lordo quindi famiglie che vivono con diciamo meno di mille euro al mese all'inizialmente era previsto solo fino a 8.265 euro all'anno quindi con redditi mensili di una famiglia all'incirca di 6 700 euro dell'agevolazione fanno i contratti a mercato libero così come quelli a regime tutelato intanto il valore del bonus per la luce dipende da quanti componenti del nucleo familiare compaiono nella dichiarazione sostitutiva unica di su per la richiesta dell'isee le famiglie composte da un massimo di due persone avranno 165,60 euro a trimestre quelle composte da tre o quattro persone riceveranno 200,7 euro a trimestre quelle che superano i quattro elementi avranno 235,80 euro a trimestre quindi si va da il 55 euro al mese fino ai 65,70 e qualcosa euro al mese di riduzione luce lo stesso discorso si applica su gas e il conteggio vale in base al numero dei componenti familiari in questo caso viene presa in considerazione anche la categoria d'uso associata alla fornitura cioè se il gas viene utilizzato per l'acqua calda sanitaria per la cottura dei cibi il fornelli ma anche in base alla zona climatica in cui si trova la casa le cifre comprendono 62,10 euro per l'acqua calda sanitaria un'agevolazione sul riscaldamento che varia da 143 euro per la fascia climatica a e b a 508,50 per la fascia f per capire di quale fascia si fa parte basta cliccare sul link se c'è una mappatura nazionale aggiornata le cifre per famiglia con più di quattro componenti sono di 112,5 euro per l'acqua calda il bonus riscaldamento di 192,60 euro per la zona a b 290,7 euro in zona in la zona b 440,10 euro in zona d 602,10 euro per la per la zona e 704,70 euro per la zona f unendo acqua calda sanitaria e riscaldamento l'agevolazione varia da 304,20 euro parliamo sempre a trimestre per le zone a e b a 816,30 euro per la zona f come si fa ad avere l'agevolazione il bonus viene accreditato direttamente nella bolletta senza bisogno di fare domanda Arera infatti riconosce automaticamente lo sconto in base ai dati IMS dopo che si è presentata la dichiarazione sostitutiva unica DSU e si è ottenuta l'attestazione ISEE la DSU si può presentare online tramite il sito dell'INPS oppure tramite il CAF centro assistenza fiscale discorso differente per chi ha diritto al bonus a causa di condizioni di disagio fisico in quel caso si dovrà compilare un modulo di richiesta al proprio comune i percettori del reddito invece avranno diritto all'agevolazione soltanto per luce gas se la soglia ISEE è superiore a quella stabilita se è inferiore si ha diritto anche all'agevolazione per l'acqua bene quindi abbiamo capito che non bisogna fare richiesta arriva direttamente lo sconto se se ne ha diritto comunque questo è solo per le famiglie che hanno un ISEE fino a 12.000 euro lordi all'anno quindi stiamo parlando di meno di 1000 euro al mese a famiglia naturalmente con questo rientreranno tutti quelli che hanno il reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza è tra 5 e 600 euro se la famiglia si regge solo su quello sicuramente ci sarà questo bonus che uno non è che lo vede passare questo bonus è già direttamente nella bolletta al posto che arrivarti 150 di bolletta ti arriva 95 certo che comunque visti gli aumenti di media del quasi 100% il raddoppio delle bollette se prima arrivava una bolletta di 100 adesso arriverà di 200 con lo sconto 150 alla fine comunque c'è lo stesso un enorme aumento anche con tutti gli sconti anche con tutti gli sconti se uno non sta non ci sta molto attento alle spese si trova un aumento terribile grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro un buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui su teleitalia ricordatevi che c'è anche teleitalia seconda rete dove trovate video di notizie politica fai da te poi questi video vengono condivisi dopo qualche ora nella pagina di facebook che si chiama teleitalia grazie a tutti e buona giornata